Una petizione popolare che introduca anche in Italia il reato di tortura, che abolisca la legge ex cirielli, la quale vieta recidibili misure alternative al carcere e che abolisca il reato di immigrazione clandestina. Se ne fa promotore il Partito Democratico, con l'idea di coinvolgere però anche altri soggetti politici come i radicali, SEL, l'associazionismo e i sindacati. Lo scopo è riportare la discussione su questi temi che sono stati peggiorativi per il funzionamento della giustizia e soprattutto hanno fatto male al Paese. Bisogna rintrodurre degli elementi di civiltà nel nostro sistema penale perché i carceri stanno esplodendo e perché credo ci sia da rispondere anche a una propaganda che nel corso di questi vent'anni ha fatto del carcere l'unico sistema di prevenzione e di contrasto del crimine. Vogliamo anche consentire che in un momento in cui, penso alla vicenda Sallusti, si riapre una discussione sul sistema delle pene, questa non parta soltanto dal punto di vista e dalla vicenda di imputati eccellenti. C'è tanta gente che purtroppo paga alcune norme discutibili, guardiamo insieme di discuterle. Bisogna voltare pagina, spiegano dal PD, perché in questa fase cruciale e delicata dal punto di vista sociale non bisogna dimenticare il fronte dei diritti fondamentali della persona. E anche in questo senso va letta l'approvazione al Senato di l'innazzamento del turnover delle forze dell'ordine che risponde così positivamente all'emergenza sicurezza. Questa petizione cerchiamo di far conoscere ai cittadini quali sono le leggi che hanno determinato in questi anni le drammatiche situazioni di sovraffollamento e quindi la in primis la ex Cirielli che appunto non consente ai recidivi di accedere alle misure alternative alla detenzione. Poi a dire la verità ci sarebbero altre due leggi da sopprimere che sono la bossi fini sull'immigrazione e la fini giovanardi sui tossicodipendenti. Comunque la situazione è drammatica e probabilmente non saranno solo queste leggi a risolvere la situazione perché il carcere ha bisogno di interventi più strutturali, ha bisogno di una vera e propria rivoluzione culturale che metta al centro una diversa idea della sanzione. In futuro non tutto potrà continuare ad essere sanzionato con il carcere ma occorrerà sempre di più fare una differenziazione dei comportamenti illeciti. Noi non vogliamo dimenticare il versante dei diritti sia per combattere la falsa demagogia della destra degli anni scorsi che aveva promesso città più sicure, un territorio più sicuro e che ha dato meno sicurezza e più propaganda per esempio con l'introduzione di questo famoso reato di immigrazione clandestina sia perché abbiamo timore che in una situazione economica difficile venga costantemente diminuito il controllo sul sistema dei diritti dei cittadini. Non si può avere la rinascita, lo sviluppo di una società se ci si occupa solo del versante economico dei suoi cittadini. Bisogna continuare a occuparsi anche della qualità dei diritti del cittadino e noi vogliamo mettere questi al centro della nostra agenda. C'è poi tutta la normativa legata all'immigrazione clandestina realizzata nel passato dai governi di centro-destra che non solo va contro la Costituzione ma soprattutto in controdendenza rispetto all'Europa. La petizione rappresenta così anche un'occasione per coinvolgere i cittadini sui propri diritti lesi. Questa è una legislazione che ci ha messo in difficoltà nei confronti del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo che più volte ci ha richiamati perché va contro quelle che sono le direttive europee oltre che contro il dettato costituzionale. Quindi, ripeto, un governo, un'ideologia che è andata contro quella che invece è il senso della storia che va in tutt'altra direzione. L'Italia ha bisogno di questi cittadini stranieri che ne ha bisogno non solo in termini economici ne ha bisogno in termini di sviluppo sociale, culturale come ha ricordato anche Napolitano. Pensare invece a una legislazione che anziché stabilizzare e destabilizzi chi è qui è una cosa non solo sbagliata, non solo incostituzionale ma che appunto va contro la storia e ormai, come dimostrano sempre più le scuole, i nostri figli va contro quella che è la realtà quotidiana. Naturalmente a fronte di questa petizione non si può non fare riferimento alle norme anticorrezioni ferme al Senato per l'ostruzionismo del PDL e che dopo il richiamo di Napolitano alla politica bisogna approvare urgentemente anche ricorrendo alla fiducia anche perché, sottolineano il PD, in quel testo c'è la delega per introdurre l'ineggibilità dei corrotti alle prossime elezioni. Adesso è segnale che va dato al Paese che la legge viene approvata con le buone o con le cattive il che significa che se da parte del PDL c'è una disponibilità davvero a lavorare seriamente per un'approvazione senza stravolgimenti lo verifichiamo e andiamo avanti. Se invece questa disponibilità non ci fosse noi chiediamo al Governo e lo facciamo qui ufficialmente di ricorre all'Istituto della Fiducia.